Sulla riforma sul Catasto, il Governo ha scelto di fermarsi un attimo per fare le dovute valutazioni, una decisione che non trova d'accordo le varie categorie professionali. Sicuramente il Governo in questo momento ha avuto paura perché la pressione fiscale sulla casa ormai è a livello insostenibile. Sicuramente questo problema è un problema che va affrontato con un po' di calma, nel senso che vanno fatte delle simulazioni per capire realmente se la tassazione aumenta oppure no. Noi abbiamo monitorato alcuni casi che con questo algoritmo che era stato preparato si arrivava quasi ad aumenti del 100%, quindi sicuramente questo non è sostenibile perché oggi il mercato è un mercato in crisi e sicuramente la casa non può essere il bancomat dei governi che si succedono.